Oggi una società con un presidente, una proprietà forte, esonera Allegri. Lo esonera perché siamo arrivati ad un punto di non ritorno. Allegri va esonerato. Se poi Agnelli e Andrea, che in questo momento è a casa, gli ha fatto quattro anni di contratto, ne restano due, devi pagare 20, 30, 40 milioni di euro. Sono problemi tuoi, dell'azienda, della famiglia, della società, della proprietà. Ma oggi un allenatore che va in campo per vincere tre partite, non dico 53, dopo aver saputo che hai avuto la grazia di avere 10 punti, significa che ne vinco tre e vado io in Champions League. Sapevo il risultato della Roma. Gioco domenica sera con il Milan. Vado in Champions e ho uno schiaffo morale a tutti, nonostante i 10 punti di penalizzazione.